Con l'inizio della stagione estiva di Nicolosi e la chiusura di parte di via Garibaldi da via Trento alla piazza Vittorio Emanuele, si stanno portando dietro una serie di polemiche e rivendicazioni, la maggior parte sacrosante e alcune sterili, che hanno spinto il primo cittadino Nino Borzi ad intervenire proprio su Facebook. Senza scendere nei particolari e fare la cerita delle cose che ho letto, scrive il sindaco, vorrei chiarire in questa sede che ai primi di maggio si è tenuta una riunione presso l'aula consigliere del nostro comune, durante le quali sono state illustrate agli operatori economici le regole alle quali attenersi per l'utilizzo del suolo pubblico e per lo svolgimento di eventi. Sono state anche illustrate e chiarite le modalità alle quali si stava lavorando per la creazione di una zona traffico limitato, l'individuazione di aree a parcheggio, alcune fuori comuni e la relativa autorizzazione, capisco le difficoltà dei residenti nel centro storico, alle quali cercheremo nel frattempo di far fronte per quanto possibile con una maggiore presenza delle forze di polizia. L'amministrazione comunale rispetto per il lavoro di tutti gli operatori, probabilmente questo modo di operare crea qualche difficoltà e differenza rispetto a quanto da qualcuno ottenuto negli anni precedenti. Il dovere dell'amministrazione conclude in relazione allo sto dei luoghi e alla localizzazione dell'esercizio commerciale e quella di trattare tutti allo stesso modo.